grazie a dragone grazie a rupert crowe a noxie nobody gli homies incumperi gift come per ora darion ci si no lui e basta lui è il mio cavallo ormai non lo tradirò farmi mai più prendere uno spavento simile mai più che paura oddio ce l'ho fatta ciao celeris ma scusami ma scusami loco tu l'hai fatto senza guida no cioè no perché ce la devo fare da solo ma cioè tu l'hai fatto senza guida o alla fine sei andato a guardare una guida ce l'hai fatta senza no ok quindi sono io che sono proprio ritardato cioè da 104 proprio cioè devo rinominare il canale in 104 slayer te hai mai rotto veramente i coglioni con queste cazzo di insegne di merda dai ma non è nemmeno piantata ormai ma che cazzo fai cioè non è piantata sto giro io dietro rivoluzione lo possiamo fare meglio di così non possiamo fare e ci abbiamo fatta dai poi qua si derapa oddio altre ruote poi qua si derapa eeeh non si sta derapando invece si si gode no si è bloccato si go no 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 con rispetto dicevo bravo con rispetto però scolleghiamo un attimo esatto bravo con rispetto faccio lo facciamo pendere un pochino ma per dargli quella giusta spinta nooo quella giusta spinta nooo adesso gli faccio un ganno della cadernia guarda eh ma quello verde che è anche il più bello no come ma forche miseria ma vieni qui aia la mia cruci stio meo guarda che ce la faccio a portarlo cruci fisso guarda guarda che ce l'ho fatta vai vai l'ho fatto io ragazzi ha funzionato Ha 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 come li prendo lo so io coi rimedi del nonno ti prego non cadere a te e non andiamo ho perso la voglia capite c'è a una certa dici ascolta no basta e come cazzo faccio adesso scusami eh devo abbattere altri dieci ascolta stupida molla mi serve un altro razzo cosa è questa palla ma c'erano queste incredibili palle ma vangulo tre ore qui devo mettere una pallina sembrava ruggito di un mostro allora il gong può arrivare a tanto i miei sensi mi dico ok clipina cos'è successo quando ci torno io in arcoido fai così perché io sono io butto qua feci un errore feci un errore e mi sono ucciso sono dimenticato che non ho la para vila ma qui perché non ho la per si si devi buttarti così come nel trailer il trailer la faceva vedere però però magari andare nell'acqua si ecco oh no 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 no